Allora, innanzitutto, chi sono e perché sono qui? Sono Palinuro e mi occupo dello sviluppo di Parrot Security. Nel tempo libero ho anche contribuito a Keyn Forensics, sto cosa stacca però spesso? Ho anche avuto modo di collaborare allo sviluppo di Keyn Forensics, al Debian, PkG Security Team, che sostanzialmente consiste nello sviluppare collaborativamente e mantenere all'interno di Debian tutti gli strumenti di sicurezza informatica, i vari NMAP e così via. Dopodiché, nel tempo libero, anziché studiare per l'università, sono fermo al primo anno da tre anni, mi dedico all'aiutare comunità da Mozilla a qualsiasi altro tipo di organizzazione che si occupi di difesa dei diritti digitali, sicurezza informatica e formazione, soprattutto tantissima formazione ad esempio nelle scuole. Per mamma e papà sono Lorenzo Faletra e quello di cui andremo a parlare oggi è forse il mio più grande esperimento ben riuscito che è appunto Parrot Security. Allora, la prima cosa da affrontare è perché un'altra distribuzione di Pentest? Cioè, siamo in un mondo dove davvero per anni siamo stati infestati da progetti di questo tipo, ogni bambino si alzava la mattina e decideva di creare la propria distro. Io sono uno di quei bambini che un giorno decise di creare totalmente per gioco una sorta di clone di Kali, banalmente perché, quando lo cominciai Kali ancora non esisteva, giusto un meme dei tanti che mi hanno fatto in community, semplicemente perché nel creare intanto ci si diverte e poi si impara tanto. Infatti l'idea della distro del pirata nasce totalmente per gioco, Parrot, lo stesso nome, vuole significare il pappagallo, ogni presente sulla spalla di ogni pirata degno di una vignetta. Come ogni gioco, ovviamente, il progetto a un certo punto sfugge completamente di mano e professionisti della security, presi per il culo, forse dall'aspetto, dal modo in cui era sviluppato Parrot, si convincono che Parrot sia realmente un progetto serio. Quando mi rendo conto di questo, a un certo punto, praticamente succede il fuggi-fuggi generale nel team di sviluppo e sono stato, diciamo, costretto a fare una vera e propria distro sviluppata bene. Ma ovviamente è una parte dell'evoluzione del progetto che ovviamente non nasce con questa finalità. Allora, ad oggi siamo davanti effettivamente a un vero progetto, non più il clone di Kali nato per gioco, non più la distro che nasce, cresce e muore nell'arco di un anno, ma di un progetto che in cinque anni ha fatto la sua strada. Ha dei goals principali, ha dei target ben mirati. Sembrano abbastanza vasti, ma ognuno ha il suo perché. Il primo ovviamente è la security. Offrire un ambiente sia per fare sicurezza, sia sicuro. Perché ovviamente un penetration tester non deve solamente vedere se un'infrastruttura è sicura. Un penetration tester su quel computer dove effettivamente sta testando questo tipo di cose, in quel momento ha tutti i dati di quell'azienda. la scansione effettuata e così via. Come minimo una full disk encryption, come minimo non avviare quel cazzo di Firefox come root, voglio dire. Ci hanno problematiche anche di sicurezza da questo tipo dove un pen tester deve effettivamente cautelare i propri dati. Quindi la security in Parrot è un'arma a doppia via. Sia fare sicurezza, sia essere un sistema sicuro. Dopodiché privacy. La privacy oggi è un tema cruciale. Una delle cose che mi chiedono spesso in Parrot è, visto che una distro è estremamente mirata, perché focalizzarsi su cose? Il motivo è semplice. Delle due correnti di pensiero relativi al mondo della security, quella delle persone che usano distro prefatte e quelle che le distro se le vogliono fare da sé, c'è una costante. Quella corrente che la distro vuole farsela da sé. Se io mi faccio distro il mio ambiente di lavoro, so effettivamente su cosa sto andando a mettere mano. conosco il mio sistema abbastanza bene da trovarmici bene non avere roba superflua e avere esattamente ciò che mi serve, dove mi serve, nel modo in cui mi serve. Ovviamente una soluzione può essere io, una distro, per usarla bene, per poterci lavorare in modo abbastanza naturale, devo conoscerla. Se questa distro la uso solo e soltanto nel momento in cui inizio il pen test e smetto di usarla quando il pen test finisce, io questa distro effettivamente non la farò mai mia. Lo scopo di Parrot, io personalmente lo uso come sistema operativo principale, è quello appunto di essere un framework che io uso costantemente, non soltanto per il pen test, ma nella vita di tutti i giorni, e che quindi io conosco dietro le quinte in ogni suo momento. Nel momento in cui comincerò a usare questo strumento per il motivo per cui è nato, io effettivamente tra le mani un aggeggio che so usare. Dopodiché sviluppo. Sviluppatori che vogliono testare la sicurezza di un puro applicativo, studenti universitari che semplicemente hanno un'immagine estremamente leggera, funzionale, aggiornata, e non le solite Ubuntu 14.04 in VM a 32 bit confezionate dai professori, non so chi di voi abbia questo cancro anche nei propri atenei. Un sistema estremamente leggero, solamente con strumenti realmente utili, con i quali si possa seguire ad esempio un corso universitario o un tutorial di penetration test out of the box, in modo completamente naturale, leggero, senza avere troppe cose superflue. Eh ma Parrot pesa tanti giga. No, ci sono due versioni. Una è la versione home. Non ha tool di pentest, è banalmente una Ubuntu Mate basata sul core Debian di Parrot. Niente di più. Un sistema estremamente leggero, che può essere usato davvero anche come una distro di tutti i giorni. Di tool di security non ce n'è traccia, ma non voglia effettivamente installarli, e potrà installare solo quelli che vuole. Dopodiché c'è il polpettone di security che contiene già tutti i tool all'interno, e quella che il Lamer scarica per giocare, dimostrare di essere parte di Anonymous e questi cazzi, però quello è totalmente un altro progetto, con altri scopi, serve a far sì che il professionista, con una pendrive in tasca, sappia che in caso di emergenza, Nmap ce l'ha. Metasploit ce l'ha, il tool scognito del VAT e la pesca ce l'ha. Ma è totalmente un altro scopo. Ovviamente ci sono tre chiavi principali. Il primo è che il sistema appunto debba essere sicuro. In questo mini talk sentiremo parlare del modo in cui viene aggiornata la distro, del modo in cui viene reso sicuro il suo ramo stabile, il modo in cui viene fatto sandboxing all'interno della distro, che è una cosa che solitamente non viene nemmeno nel distro di Pentest, perché banalmente non viene nemmeno fatta nelle distro home edition, se vogliamo, non a questo livello. dopodiché, Freedom, è importante che all'interno di questo sistema un utente abbia effettivamente accesso a tutto ciò che c'è sotto il cofano della distribuzione. Non è una grande novità, voglio dire, un po' tutte le distro offrono i loro sorgenti. Chi più, chi meno, chi include software proprietario, chi no. Parot ovviamente include tutti i proprietari, perché è un penetration tester, per poter prendere la scelta di dire, io magari il software libero lo voglio, non lo voglio e così via, come minimo una connessione wifi per installare il driver non libero dovrebbe averla, per cui i blob proprietari sono già lì dentro. Tutto l'hardware, quasi tutto l'hardware, funziona out of the box, non ci sono problemi di compatibilità da questo punto di vista, anche perché ha un kernel molto aggiornato. Dopodiché, la leggerezza. GNOME 3, cazzo che pesante. Averlo in un ambiente che magari gira in una virtual machine è un problema. Risolvere questo problema significa banalmente fare la più semplice delle scelte. Cambiamo di E. Togliamo tutti quegli elementi che possono appesantire un sistema. Perché? Perché lo scopo non è avere l'animazione quando si switcha da un terminal all'altro. Lo scopo è avere un sistema funzionale ed efficace. Perché? Perché un altro progetto del genere? Sì, ci sono belle idee dietro, si fa ricerca e così via. E innanzitutto divertimento. Tanto divertimento. A creare progetti del genere, a far parte di un progetto del genere estremamente giovane, estremamente flessibile, dove si fa ricerca e dove il core può effettivamente cambiare, assumere nuove rotte e così via, è una cosa divertente per chi ne fa parte. Motivo per cui praticamente sono ancora al primo anno di università dopo i tre anni. Perché? Perché lavoro full time a questo progetto. La quantità di cose che ho potuto imparare da qui, nessun corso di pen test, nessuna certificazione me l'avrebbe mai data. Dopodiché, la formazione. Attraverso Parrot ho avuto modo di fare formazione. Qui abbiamo un esempio, una cavia di persone che è effettivamente andata da alcuni miei talk, ma ad esempio, nella comunità di Parrot ci sono dei formatori che lavorano nelle scuole, lavorano negli atenei, ci sono università che hanno aperto corsi di sicurezza informatica incentrati su Parrot, ad esempio, un'università in Turchia. Questa è un'immagine, la prima che ho trovata, siccome ho aiutato i ragazzi a sistemare il fatto della CTF stamattina, le slide le ho un po' fatte in fretta e furia, la prima immagine che ho trovato, però ci sono ormai scuole, corsi, un sacco di progetti, certificazioni, che ormai i Parrot ne fanno uno strumento del loro arsenale. Ci sono anche forse dell'ordine che ormai l'hanno nel proprio arsenale, se vogliamo, cioè è uno strumento effettivamente usato sia per fare ricerca sia che per lavorare effettivamente sul campo. Inoltre, gli idioti fanno danni. Se noi non facciamo formazione, se noi non ci occupiamo di effettivamente formare le nuove generazioni, gli idioti fanno danni. e pertanto attraverso un secondo che ve lo sistemo, l'alimentazione c'è tornato, forse si è resettato il display. Sì, infatti si è disabilitata la duplicazione. Apply. Eccoci. Siccome gli idioti fanno danni, perché la madre di idiota è sempre incinta, noi abbiamo un problema da risolvere. Una delle mie missioni è quella di educare la gente. E finché si tratta del bambino che prende in mano la cali di turno, la parola di turno e comincia a fare danni, è un problema circoscritto e limitato. Il problema è quando altri formatori fanno enormi cazzate. Pertanto, sensibilizzare la gente in modo corretto su temi come l'anonimato, su temi come la sicurezza informatica, su temi come la privacy, il diritto alla privacy, diventa qualcosa di estremamente importante affinché gente del genere non faccia danni del genere. Questa è un'immagine famosissima che ormai gira nel web da anni, sento gli applausi da fuori. Grazie. Pertanto, visto che ci troviamo ad affrontare questo tipo di problemi, io della formazione ne ho fatto un obiettivo primario della mia vita. Ricerca. Perché non sperimentare? Ci ritroviamo... L'ho fatta oggi questo mamma è troppo divertente. Ci troviamo la distro che per eccellenza il sistema operativo che per eccellenza è sempre stato preso per il culo per la sua sicurezza ad avere un sistema di sandboxing estremamente innovativo ma soprattutto ad essere stato tra i primi ad introdurlo a questo livello. Windows 10 è effettivamente una macchina estremamente complessa che fa del sandbox, delle access list, dei permessi sull'API, un fatto, una realtà. Poi possiamo fare l'escape come vogliamo in ogni modo però effettivamente loro ci sono riusciti ed emergevano dai tempi di Balmer. E poi Linux? E Linux è il sandboxing dove l'ha messo? Abbiamo, se Linux abbiamo di tutto dentro Linux per poter... GR Security nonostante tutto ciò che è successo nella sua storia ma effettivamente se io scarico una Ubuntu avvio il browser il browser ha accesso alla mia cartella .ssh della mia home directory può accedere alle mie... c'è un processo che si interfaccia con l'esterno ha accesso a una cosa estremamente sensibile dentro la mia macchina. Il browser sempre per prendercela con Firefox viene seguito col nostro utente a tutti i permessi di lettura sulla nostra chiave privata GPG nella nostra home directory. Cioè è un sistema che non è sandboxato Linux è sicuro perché finché ogni processo il web server il database e così via gira con un suo utente tra utenti c'è una certa... sandbox è il termine sbagliato c'è un certo isolamento c'è vecchio stampo Unix nel mondo desktop il deserto dei tartari pertanto abbiamo un bel progetto possiamo fare quello che vogliamo ogni tanto cresce quindi se sperimentiamo qualcosa possiamo permettercelo perché non provare a fare qualcosa di intelligente ad esempio le sandbox in Parrot adesso da partire dalla 3.9 in via sperimentale fino ad oggi alla 4.1 ma tra un po' uscirà la 4.2 abbiamo consolidato un nostro sistema di sandbox non l'abbiamo inventato niente abbiamo riciclato componenti già esistenti ma adesso ogni processo è chiuso dentro una sua jail dove determinate risorse non è che non sono accessibili perché non ci sono i permessi di accesso ma perché quelle risorse vengono lanciate dentro un file system virtualizzato dove quelle risorse non esistono non c'è modo di astrarle qualcuno di voi avrà sentito parlare ad esempio di FireJail è un tool per fare sandboxing alle spalle a controversie di ogni tipo un sacco di vulnerabilità che sono state trovate negli anni ad oggi è un tool sicuro che permette di chiudere un processo dentro una sandbox e disabilitare determinati permessi leviamo gli diritti ad esempio di poter diventare root togliamo il concetto di utente root da dentro la sua jail togliamo il concetto di permesso da dentro la sua jail inseriamo un solo utente dentro la sua jail se ci sono altri utenti non esisteranno dentro la sua jail e così via è un sistema estremamente efficace per poter chiudere i messi dentro mini ambientini con solo ciò che gli serve potrei farvi vedere un esperimento dal vivo ad esempio siamo su Firefox se faccio file due punti triple slash home mi mostra solamente una cartella index of palinuro in realtà ma intanto nella mia home ho due cartelle e vogliamo entrare nella mia home Firefox vede solo sta roba in realtà c'è molto altro ci sono un sacco di cartelle che Firefox semplicemente non vede perché nella sua jail non esistono a partire dal .ssh e .gpg che non esistono su quel file system per cui è un sistema estremamente efficace semplice e leggero che non aggiunge troppo overhead come altre soluzioni simili per semplicemente rendere un sistema sicuro jail diverse non avranno le stesse risorse perché ad esempio VLC non deve avere le stesse risorse di Firefox LibreOffice avrà esigenti totalmente diverse da vattela pesca il software per le mail Thunderbird questo ci permette di far sì che ogni programma anche in caso di exploit offra all'exploit stesso un ambiente dove i danni che possono essere fatti sono estremamente limitati dopodiché parliamo un attimo del futuro della distro oggi cosa sono le distro di pentest come sono organizzate cosa c'è dietro le quinte semplicemente sono sistemi operativi dove così come hanno installato Firefox hanno installato Nmap così come hanno installato qualsiasi strumento di sistema hanno installato un sacco di tool all'interno buttati nelle varie user bin e così via non c'è un vero e proprio isolamento è tutto quanto dentro un unico grande calderone di recente abbiamo sperimentato i container Docker per Parrot io qualsiasi sistema operativo abbia tra le mani se ho la possibilità di installare i Docker con un solo comando posso avere accesso a un ambiente Parrot non solo ma Docker ci permette di alzare più container diversi dello stesso template template di Docker non è come ad esempio WSL su Windows dove se installo Ubuntu o quella Ubuntu io se installo ad esempio Docker su Windows quante Parrot diverse voglio 10 lancio 10 volte il comando per rannare la cosa dal template dallo stampino vado a stampare 10 versioni 10 container isolati di Parrot dove ci può servire questo? intanto a isolare le parti le fasi del pentest gli strumenti di pentest ad esempio per fare information gathering non saranno dentro la stessa box degli strumenti per fare exploitation ci permette di fare inizia all'interno del nostro ambiente di lavoro o ancora meglio per isolare i vari casi che andiamo a studiare questo nella forense si usa spesso se io apro un caso devo lavorare con questa azienda mi alzo dei container Docker dedicati solo e soltanto per il lavoro che faccio su quella azienda se parallelamente sto seguendo un'altra azienda quei stessi test con gli stessi identici tool possono essere fatti in un ambiente totalmente dedicato a quell'altro settore per cui questo ci permette di rendere molto più se vogliamo dinamico leggero anche il sistema perché scarico solamente gli elementi che mi servono quando mi servono estremamente veloce perché comunque Docker non è una virtual machine io non ho un portatile con 32 gigabyte di RAM perché devo alzare quattro macchine virtuali due delle quali con Windows con due versioni diverse perché chissà quale tool per testare chissà quale strumento particolare qualcuno di voi questa storia l'avrà già i container girano nativamente sullo stesso kernel non si ha lo stesso livello di sicurezza ma devo fare user space per fare lavori diversi in questo caso Docker si sposa con quello che sarà il futuro di Parrot ossia utilizzare ogni fase del nostro lavoro questa è parte delle ultime ricerche che stiamo facendo parte di che rende Parrot diverso dagli altri questo è un esempio di come Docker viene lanciato di come ad esempio possa creare un mini ambiente con dentro determinati tool l'aero dentro una home edition dove Parrot fisicamente non aveva quel tool poteva essere qualsiasi altro sistema operativo poteva essere una Debian pura poteva essere una Ubuntu poteva essere una Centos Red Hat effettivamente posso avere accesso al mio arsenale senza bisogno di tutto parliamo un attimo di numeri quanto è grande Parrot è nato per gioco ha dovuto mettere Jack e Cravatta forzatamente c'è riuscita in maniera abbastanza discreta cosa ha dietro le quinte questa slide è vecchia sempre per il discorso dei ragazzi della CTF che ho voluto aiutare ho fatto uno screenshot di una mia vecchia slide del 2017 questi erano i numeri di allora abbiamo prevalentemente cinque persone tre attualmente attive che seguono il core del sistema una delle quali sono io purtroppo presento un single point of failure del progetto perché se io vado in vacanza gli aggiornamenti di sicurezza non li può firmare nessuno forse ogni quattro ore anche dal cellulare i miei amici lo sanno sto lì a rompere le scatole alla gente con i miei aggiornamenti dopodiché abbiamo una quindicina di contributors che siamo riusciti a identificare con nome e cognome codice fiscale ce ne sono tantissimi altri sono coloro i quali io mi fido dopodiché abbiamo fatto più di 35 rilasci per cui quasi ogni mese circa ogni mese e mezzo due mesi noi sforniamo una nuova ISO perché effettivamente abbiamo aggiunto un nuovo feature abbiamo fatto chissà quale viva Maria semplicemente perché dato che i tool sono in costante evoluzione chiunque abbia mai seguito i commit su metasploit sa che ogni giorno qualcuno aggiunge qualcosa siccome è importante avere sempre un ambiente aggiornato noi forniamo continuamente aggiornamenti semplicemente perché a differenza delle distro fai da te io mi installo la mia Debian e la trasformo nel mio ambiente di test lo scopo delle distro precotte è quella di togliere dal pen test l'onere di dover tenere il proprio arsenale costantemente aggiornato l'onere di dover reinventare ogni volta la ruota nell'aggiornare correttamente i tool aggiornare correttamente le dipendenze evitare che le dipendenze di tool diversi si scazzino tra di loro per motivi X o semplicemente per non avere il desktop pieno di roba clonata da git che diventa una cosa davvero immonda è un sistema affinché pochi sviluppatori mantengano pulito e costantemente aggiornato un ambiente per tutti gli altri affinché non torna a reinventare la ruota dopodiché abbiamo più di 54.000 software per architettura significa che ogni architettura ha accesso ai i soliti 45 50.000 pacchetti di Debian più roba nostra roba importata da Kali roba importata da altri progetti che noi abbiamo valutato analizzato ricompilato e aggiunto ai nostri repo per cui chiunque dica ama Kali ha più tool frena noi abbiamo una pipeline che automaticamente qualsiasi tool entra in Kali entra anche in noi per cui da questo punto di vista siamo coperti è il motivo per cui ci danno spesso della derivata di Kali in realtà noi ci basiamo direttamente su Debian abbiamo pipeline che importano automaticamente da Kali che importano automaticamente da Backbox certe volte siamo in contatto col PKG security team di Debian per cui c'è un ricambio continuo di tool e riusciamo a mantenerci completi nonostante siamo tre cani a svilupparla semplicemente perché l'automazione è il futuro è ciò che effettivamente permette agli uomini di non fare operazioni ripetitive e inutili come mantenere tool già mantenuti secondo gli stessi standard che noi rispettiamo dopodiché a livello di server noi abbiamo attualmente solo tre nodi principali uno in Francia uno in Canada e uno banalmente tra casa mia e l'università vicino casa mia le condizioni di queste infrastrutture sono penose perché banalmente io campo ancora di mamma e papà tra qualche lavoretto anche in apprezzazioni occasionali e Parot riceve più o meno 100-120 euro di domizioni al mese fortunatamente sono fissi attraverso Patreon più qualcosa che ogni tanto su Paypal però sostanzialmente è un progetto che per la sua vastità dopo vedremo qua ci sono già i numeri dei download che fa qualcosa di fatto praticamente in maniera estremamente quasi artigianale cioè all'università uno dei nodi di build fortunatamente osservato a vista con disk encryption è praticamente posato sopra un vecchio frigorifero dismesso in un'aula universitaria è una cosa fantastica perché ogni tanto vado là mi attacco accendo decrypto mi compilo un po' di roba e via lavorare lì sopra per cui attualmente stiamo avendo delle collaborazioni ad esempio l'università delle Marche sta per ospitare un nuovo nodo che attualmente è parcheggiato nel nostro furgone che tra un po' andremo a spedire cioè è una cosa che ci sta dando davvero occasione di mettere mano alle tecnologie cioè spesso ci sono maintainer che non hanno mai visto un proliant non l'hanno mai toccato con mano effettivamente le tecnologie che usiamo per fare il delivery di questo sistema sono tecnologie con le quali noi combattiamo con mano ogni giorno io al proliant gli do i calci quando non parte è qualcosa che davvero il virtuale non ci consente di avere altra domanda che ci fanno è ma google cloud vi offre i soliti 100 euro per il primo anno non so quanto sono perché non andate su una piattaforma del genere intanto perché le piattaforme cloud non sono una cosa magica sono semplicemente il computer di qualcun altro poi della paranoia dei cappelli di stagnola ne parleremo tra un attimo semplicemente perché se volessi fare un deploy di che ne so redis di 8 gigabyte su avs mi costerebbe quasi 70 euro al mese 8 gigabyte di dedicato sì più o meno quello il prezzo ho visto 8 gigabyte di dedicato mi costa quanto 15 euro al mese sul suo you start il dedicato effettivamente ci aiuta anche economicamente è vero che bisogna lavorarci ma quando noi siamo bravi lato amministrazione di sistema ad automatizzare tutti questi processi gestire il bar metal diventa estremamente estremamente veloce efficace e quando vogliamo una virtual machine non dobbiamo preoccuparci del budget e ce la facciamo a pagare una VM in più questo mese non ci sono problemi l'hardware già l'abbiamo dopodiché nel momento in cui noi abbiamo una distribuzione usata da forze dell'ordine militanti di anonymous non so se sono ancora in vita o che fino abbia fatto il progetto anni fa qualcuno c'era ancora cioè dal momento in cui è un sistema usato sia per gioco che in situazioni estremamente critiche noi non vogliamo la responsabilità di mettere i nostri utenti nelle mani di boh google amazon e chi sono chi l'ha mai visto si sono grandi aziende hanno una grande nome e così via anche una certa nomea sotto alcuni punti di vista Aruba una caso per cui nel momento in cui non possiamo non vogliamo noi magari ci fidiamo ma non sappiamo se i nostri utenti si vogliono fidare di questo tipo di enti noi facciamo sì che l'intera nostra piattaforma sia disponibile su hardware che noi personalmente controlliamo full disk encryption alcuni sono sorvegliati davvero a vista cioè in camera mia ci entro io e mia madre sostanzialmente per cui è un'infrastruttura nata per essere anche sicura da questo punto di vista dopodiché fortunatamente non è tutto sulle nostre spalle ci sono i mirror noi andiamo a fare quasi 5.000 download tonalieri come momento di picco dell'infrastruttura per esempio durante i nuovi rilasci ammortizzare 5.000 download di un file che pesa 3,7 giga ci sono un po' di calcoli vecchi non so quanto siano aggiornati diventa estremamente difficile far sì che questa piattaforma raga fortunatamente università centri di ricerca aziende telco e così via hanno offerto dei loro mirror aspetta ma noi non ci fidavamo di Amazon e adesso diamo in mano i centri di ricerca che nemmeno conosciamo attenzione noi non abbiamo le nostre infrastrutture di build di delivery centrali su questi server loro semplicemente fanno un rsync dai nostri nodi centrali e tutti i file che loro sincronizzano hanno firme gpg con 512 bit di criptazione insomma c'è un po' di c'è un po' di criptografia di mezzo che ci cautela da questo punto di vista c'è gpg banalmente per l'archivio apt insieme ai vari hash chiunque abbia mai aggiornato una debian con dei repository aggiunti manualmente sa che significa quando un repo non è firmato quando le chiavi effettivamente non sono autorizzate qualsiasi modifica al repository fa sì che si triggeri un allarme nel sistema che impedisce qualsiasi forma di aggiornamento in quel repository quindi da questo punto di vista mettere in mano a terzi questo tipo di materiale è del tutto sicuro per i nostri utenti finali sì facciamo tanto traffico sboronate sparate di posa cosa c'è dietro le quinte dello sviluppo innanzitutto abbiamo un workflow ormai abbastanza definito da anni che ci consente di lavorare sul nostro repo abbiamo i nostri sorgenti dei vari tool progetti robe nostre interne per part temi colori icone fantastiche che vengono mantenuti attraverso un version control system usavamo github tantissimi anni fa la slide è vecchia oggi abbiamo il nostro git lab dedicato con un mirror su github più altri mirror privati che abbiamo internamente per cui lo sviluppo è prima di tutto collaborativo e soprattutto tracciabile chiunque può vedere quale dev ha pushato quale modifica sui nostri pacchetti specifici se la modifica non è nostra sicuramente viene da Debian Debian ha strumenti forse migliori dei nostri per fare il lavoro del genere dopodiché ogni volta che ci sono delle novità uno dei core members del team prende queste novità le verifica le firma e le manda a un archivio di sorgenti da questo archivio di sorgenti viene triggerata la piattaforma di build ci sono dei server prevalentemente a casa mia che compilano automaticamente 5-6 server prima o poi se vedete parlo offline perché mia madre mi ha buttato fuori di casa sostanzialmente questi pacchetti vengono automaticamente compilati per tutte le architetture supportate e immediatamente mandate in forma di binario sulla nostra piattaforma di testing da testing i binari vengono testati in testing entrano anche tutti gli aggiornamenti di Debian dopodiché se testing funziona di testing funzionante viene fatto uno snapshot che diventa la nuova stable ripetiamo un attimo in testing entrano aggiornamenti da due fonti una sono i nostri pacchetti un'altra sono i pacchetti di Debian dopo che questi pacchetti entrano in testing testing entra in una micro fase di feature freezing che dura pochi giorni solitamente massimo una settimana due settimane dove se effettivamente il si dimostra coerente funzionante e stabile secondo tutta una serie di test automatizzati e manuali che noi abbiamo allora della versione testing funzionante ne viene fatta uno snapshot questo nuovo snapshot diventa la nuova stable quindi è vero che siamo basati su Debian Testing c'è stato un periodo in cui Debian Testing ha aggiornato GTK 3 alla 3.22 Mate non funzionava più un sacco di altri pacchetti che non erano parte di Gnome ma sfruttavano le GTK hanno smesso di funzionare per mesi cioè chiunque avesse Debian Testing avesse avuto Debian Testing con un Mate durante il 2017 mi pare aveva un sistema inutilizzabile noi siccome abbiamo una nostra fase di test abbiamo bloccato tutti quei aggiornamenti che ci causavano problemi e gli utenti Parot hanno avuto un upgrade lineare quindi da questo punto di vista siamo molto ma molto più stabili di Debian Testing e soprattutto quando i Debian Testing spariscono dei pacchetti noi riusciamo a mantenerli per conto nostro per un periodo necessario a valutare indipendentemente se effettivamente ci servono o meno senza che all'improvviso uno si svegli la mattina faccia l'upgrade e non funziona più niente perché qualche pacchetto dipendeva da quell'altro pacchetto allora questo è più o meno Parot raccontata in quanti minuti? 34 ho sforato quasi di 4 minuti vi ho raccontato più o meno come nasce cos'è quali sono i suoi obiettivi perché ha ancora senso sviluppare un progetto del genere quali sono le nostre frontiere di sviluppo cosa abbiamo fatto cosa stiamo andando a fare e come funzionavano più o meno dietro le quinte se ci sono domande mi trovate qui per i tempi delle domande finché non ci buttano fuori o in giro per banchetti e cose varie dopo non c'è niente beh continuiamo presentiamo qualcos'altro tra l'altro abbiamo anche un sacco di collaborazioni interessanti perché ricercando facendo anche ricerca in questo settore riusciamo ad avere contatti con persone davvero interessanti da sviluppatori di mozilla fino a gente che nel tempo libero si inventa concorrenti di open fiber funzionanti o si inventa protocolli strani per clusterizzare roba in modo praticamente automatico per cui è un mondo davvero ricco che permette soprattutto di fare rete oltre che divertirsi nel farlo qualsiasi domanda non mordo docker avvia già direttamente il terminale però ad esempio attualmente abbiamo un container docker ti parlo di quello che abbiamo per andare a fare abbiamo un container docker solamente col core di parot installo il core installo il tool che voglio 30 secondi ho la macchina operativa già testata per essere funzionante con quel tool altrimenti ho parotsec slash parot che contiene un po' tutti i tool generici più usati ci sono i nostri metapacchetti qua dentro ne tira due o tre quelli fondamentali per davvero prevalentemente tool utilizzabili da terminale visto che docker ancora non ha un sistema di gestione interfaccia grafica e così via il futuro è far sì che dei container vengano divisi per macro aree di pentest quindi non ci sarà il container per nmap ci sarà il container di information gathering che dentro avrà nmap e il vattelappesca simile allora attenzione io di solito visto che da Kali noi importiamo parte del progetto possiamo permetterci di giocare sopra ciò che è stato già fatto e avere un po' di più cosa significa che quando si va a fare un talk del genere su Parrot ciò che ne emerge è che uno sviluppatore di un progetto che non vale niente prende per il culo sviluppatore di un progetto che invece ha roba grossa alle spalle non voglio che sia questo risultato ciò che pensate uscendo da qua sostanzialmente Kali è una distro fatta benissimo cioè il lavoro di Raffaele Sofie Brune e così via è qualcosa di eccezionale tant'è vero che loro non fanno solamente parte di Kali sono anche Debian developers attenzione io sono solamente un ragazzo che gioca come Debian contributor ogni tanto lanciando qualche commit una volta almeno ogni 3-4 mesi perché non ho manco il tempo di farmi le lezioni all'università quello che voglio dire è Kali è una base è una base fatta fottutamente ma si ferma a un desktop GNOME con accesso di default come root e basta noi su quel concetto abbiamo costruito altro per cui tutti i vantaggi di Kali Parrot li eredita non perché sia effettivamente meglio perché il palinuro sia chissà quale genio perché banalmente abbiamo costruito sopra qualcosa che è estremamente bene attenzione non siamo una derivata di Kali da lì importiamo molta ma molta roba roba fatta fortunatamente bene soprattutto Kali apri Firefox oltre a essere in esecuzione come root se ti fanno l'exploit hanno accesso alla tua macchina su quella macchina magari consegnare cappello di stagno però voglio dire in Parrot ad esempio vedo una maglietta Mozilla oltre a esserci l'ultima versione di Mozilla quindi già con quantum a board e tutta sta roba ci sono anche come Ublock Origins NoScript Privacy Badger e così via c'è un launcher dedicato per poter scegliere profili io quando faccio un pentest non voglio che l'XSS mi venga bloccata dal browser cazzo ci sto lavorando posso gestirmi un profilo per il pentest un profilo personale un profilo di cazzeggio un profilo per i porno e così via in maniera totalmente automatizzata per cui c'è del lavoro in più che effettivamente mi permette di automatizzare tutta sta roba lo scopo non è fare chissà quale cosa di fantasmagorico lo scopo è avere un tema comodo da usare e tutta la roba sporca che un professionista vorrebbe è già a bordo anche perché un professionista questa roba se non ce la costruisce ad aggiungere un utente su cali non è che ci voglia tutta sta gran scienza se so come funziona se sono le basi di Debian ma il newbie che sta cominciando adesso si abitua con cattiva abitudine con quelle che continuano nella sua vita se io già gli fornisco un esempio un modello cioè io ad esempio NoScript ho cominciato a usarlo perché perché il MacBook lo metteva preinstallato era una cosa bellissima io molte cose le ho conosciute perché determinate distribuzioni con persone che avevano un determinato modo di pensare mi hanno educato in un determinato modo adesso arrivo qui nel mondo dei grandi ciao mamma ho 15 anni e finalmente voglio anch'io dare l'esempio da ciò che ho imparato facendo cosa una distro dove determinate cose vengono fatte in modo diverso sì ogni tanto crash è colpa mia era una merda 4-5 anni fa Pandora Box sì praticamente faceva il wipe della RAM in realtà non faceva un vero wipe della RAM faceva un wipe della parte libera della RAM dove probabilmente c'era altro entriamo nel mondo della forensics se io spengo un computer il mondo virtuale degli accademici vuole che le memorie bla 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 non l'alimentate si cancelli in realtà bomboletta di ghiaccio c'è qualcuno della forensics qua dentro magari ce l'ha pure nello zaino scherzi a parte effettivamente se vogliamo essere paranoici dobbiamo esserlo bene fino alla fine con l'avvento di systemd e sempre sia lodato praticamente quello script non ha più funzionato convertirlo a systemd era tempo che toglievo a sviluppo di cose serie nel core anche perché là eravamo in una fase di transizione molto particolare dovevo lavorare su cose serie ossia far funzionare systemd quando nemmeno in debian funzionava quindi abbiamo deciso di togliere quello script se si è paranoici fino a quel livello c'è tails e tails fa molto meglio di parot in parot abbiamo strumenti di anonimato pazzeschi da tor preinstallato ad annuncers sviluppato ad hoc da lisetta ferrero che non so nemmeno chi sia realmente tanto è anonima gente del genere è uno strumento che se lo si mette in mano una persona che cerca l'anonimato si permette a quella persona di raggiungerlo realmente per quanto l'anonimato non sia mai al 100% però non è uno strumento che nasce per essere il tails killer non è quello il suo obiettivo per cui a questi livelli preferiamo non lavorare più lavorare in maniera un po' più generica per fare un sistema comodo completo e così via ma se avete il problema della RAM recuperata in quel modo parot non è la vostra soluzione purtroppo sì anche perché ad esempio tails questa patch ce l'ha ma dopo devi spegnere forzatamente il computer una palla specialmente se controlli il sistema da remoto lo devi riavviare da casa e non hai che ne so una IPMI remota noi in cloud abbiamo delle cose non sono cose che contengono dati sensibili dell'utente noi attenzione noi all'interno delle nostre piattaforme facciamo cloud non abbiamo la roba su bare metal cioè io alzo un container e un docker mi alza un'infrastruttura di build noi abbiamo il nostro cloud che è diverso solo che per cloud oggi si intende Amazon attenzione Amazon è un provider ha il suo bare metal si fa il suo cloud noi ci facciamo il nostro e ce lo facciamo a modo nostro significa avere il controllo della piattaforma controllo totale delle risorse sicurezza ce la gestiamo noi in casa e se ci stiamo qui a fare sicurezza è perché abbiamo l'arroganza di credere di saperla fare bene forse meglio di chissà chi però voglio dire abbiamo le nostre procedure siamo maniacali da questo punto di vista c'è gente che davvero ha il portatile sotto cassaforte con la master key di GPG per fare una firma c'è gente che davvero si mette la copertina prima di inserire la password dentro Parrot per cui avendo questo livello di paranoia e avendo un sistema di firme digitale che ci certificano ogni singolo passaggio e avendo soprattutto una gerarchia di fiducia dove io attualmente rappresento il livello massimo tant'è vero che io sono l'unico possessore delle private key per firmare nei repository cioè in Debian ora è mia ignoranza lo ammetto ma io ad esempio non so chi in Debian metta effettivamente le firme sui repository è una persona sono più persone è un server automatizzato ripeto non è un attacco contro Debian io personalmente non lo so dovrei documentarmi in Parrot io effettivamente rappresento il single point of failure del progetto se io non firmo un pacchetto nessun altro ha modo di inserirlo nei repository pertanto se fin tanto che io non rappresento una minaccia per il progetto da benevolent dictator io posso effettivamente mantenere coerente e sicuro l'intero sistema amministratore di sistema siamo in due io e Francesco Bonanno un ragazzo di Palermo che ha fatto un sacco di cose interessanti pure lui oltre noi nessuno ha modo di accedere alle infrastrutture di Parrot tranne quelle ovviamente che non contengono dati sensibili tranne quelle non sperimentali che non distruggiamo una volta a settimana cioè le infrastrutture vere sono in mano a persone la cui fiducia diciamo è sia garantita che controllabile dall'utente scrittografia ci salva c'era un'altra domanda sì allora il nostro scopo non è così come non è essere tail non è nemmeno essere SOS Cubes adotta sotto il cofano Xen come virtualizzatore full virtualization on container al suo kernel c'è hardening di ogni tipo la sopra è una tecnologia che se si comincia a studiare non si finisce più noi adottiamo un sistema simile ma molto più leggero noi non adottiamo le virtual machines adottiamo i container praticamente sopra un unico kernel creiamo più user space all'altro per cui non è una cosa estremamente efficace abbiamo fatto chissà che cosa semplicemente isoliamo a livello di containerizzazione che è un sistema diciamo una via di mezzo abbastanza pratica abbastanza efficace che fa esattamente ciò che noi vogliamo sia che se ci bucano il browser o hanno l'exploit del kernel o le mie chiave gpg non ce le hanno questo è lo scopo esatto perché noi stiamo effettivamente andando a installare un binario all'interno di un sistema innanzitutto arrivo io mi sveglio alle 4 di notte perché è arrivata l'email mi metto a leggere il codice sorgente se lo faccio a prima colpo fantastico altrimenti me lo faccio spiegare leggo la documentazione vedo se è documentato parlo con i maintainer e con i sviluppatori sono fasi che durano mesi noi infatti un sacco di tool che ci propongono li rifiutiamo perché effettivamente la gente si stanca di starci dietro soprattutto dopo che io faccio una verifica e col mio team valutiamo che questo tool non è pericoloso e che non lo sarà nel tempo non manteniamo direttamente il pacchetto perché banalmente non siamo abbastanza la seconda sfida che proponiamo agli sviluppatori è voi riuscireste a mantenere il pacchetto da soli o a trovarvi un vostro mantenimento eventualmente vi faremo una fase di training in questa fase ma voi dovete imparare a rendere il vostro strumento autosufficiente e compatibile con le forme quali Debian se il pacchetto è già Debianizzato diventa anche più facile per noi integrarlo in una CI che fa dei test ad esempio diventa anche più facile per noi vedere come viene compilato correttamente come effettivamente viene usato installato e così via una volta che loro riescono a mantenere in autonomia il pacchetto noi ogni volta che ci arriva un aggiornamento lo verifichiamo vediamo se il pacchetto è ancora in micro effettivamente rispetta ancora le peculiarità per il quale l'abbiamo accettato ed eventualmente buttiamo sulla piattaforma di prendiamo i binari li schiaffiamo sul repo se funziona tutto passa da testing comunque c'è sempre una verifica manuale oltre a quelle automatiche e mettiamo un sacco di ostacoli per rompere i coglioni ai sviluppatori così da non imbarcare merda così a caso perché lo sviluppatore della domenica eh ma io ho automatizzato automatizzato rendilo prima un software poi ne riparliamo sì sulla nostra piattaforma ci stiamo lavorando attualmente abbiamo lxd e docker in maniera abbastanza selvaggia tutto il resto lo integriamo in altro modo facciamo clustering a livello di lxd ad esempio cerchiamo soprattutto perché per ridurre il più possibile la superficie d'attacco docker e una kubernetes è una tecnologia molto interessante è un orchestratore una tecnologia che si appoggia sopra altre tecnologie finché non siamo sicuri lo uso da anni tutto quello che volete ma finché io non sono effettivamente sicuro di padroneggiare la tecnologia non la implemento in un progetto così delicato ci sono già non ha senso aggiungere automazione dove non ci serve non ha senso aggiungere livelli che effettivamente non ci servono ci sono funzioni di docker che effettivamente non useremmo ci sono funzioni che non potremmo controllare nel modo in cui le controlliamo attualmente e in cui le controlliamo attualmente ci permette di far sì che ogni volta che un docker viene lanciato viene lanciato solo se quel comando ad esempio è firmato in gpg da uno del core team per fare un esempio per cui siccome abbiamo questi strati custom per nostre verifiche interne non adottiamo questo tipo di tecnologie finché o non ci danno lo stesso livello di sicurezza o non le conosciamo a fondo per poter raggiungere i stessi livelli però sì noi ci stiamo muovendo in quella direzione io lo uso al lavoro per altre cose sì se non sbaglio un'istanza docker per cui così come lo fanno loro lo puoi fare comparo visto che adesso abbiamo i container solo che noi non abbiamo una OSEC alle spalle quindi non abbiamo i soldi per pubblicizzarlo in quel modo abbiamo manco i soldi per pagare un grafico per farci una vignetta il core c'è c'è un sacco di lavoro dietro man mano che cremo nuova gente riusciremo a fare quel tipo di lavoro ovviamente non abbiamo soldi alle spalle per cui il server è a casa no perché si basa su testing tutto il processo di stabilizzazione che vuoi ma testing è testing attenzione non perché testing sia una cosa che la gente testa in realtà debiamo testing per progetto cosa cambia è rolling release e non LTS questa è l'unica grande differenza per cui se tu scarichi Parrot 4.1 nella 4.2 potrebbe essere cambiato il viva maria non puoi tenere il 4.1 perché effettivamente i numeri di versione di Parrot non indicano versioni che nascono e muoiono in quel modo sono semplicemente dei tag che nel ciclo di vita di Parrot significano dei snapshot di Parrot nel quale abbiamo ricompilato le ISO banalmente nei nostri server usiamo Debian di Ardened e roba di questo tipo diciamo che là poi facciamo proprio i cafoni con la roba ardenizzata a modo nostro cosa importante stiamo per sviluppare una LTS di Parrot questo è importante quindi si potrebbe esserci una Parrot server edition io vorrei averla la prossima Debian Stable Debian 10 sto sperimentando su Debian 9 è un bagno di sangue siccome già conosciamo quello che sarà Debian 10 perché lavoriamo su Debian Testing quello che c'è attualmente in Debian 10 è una LTS basata lì ci garantirebbe un sacco di roba figa dentro sì semplicemente perché dato l'enorme lavoro che abbiamo fatto su Parrot ci piacerebbe rendere Parrot non la distro di Pentest ma un core mantenuto in un certo modo con determinate politiche interne dove la parte dedicata alla sicurezza non è solo una piccola branca la parte dedicata all'anonimato è un'altra branca sulla quale noi lavoriamo e così via cioè creare un core che noi già abbiamo sul quale costruire non soltanto un progetto abbastanza di nicchia ma qualcosa di molto più vasto la risposta oggi non ce l'ho perché è una wish list quella probabilmente ci arriveremo perché un sacco di roba che noi abbiamo sviluppato averla sui nostri server ci sarebbe molto comodo che su Debian non avendo ci complica un po' la vita è una distro come un'altra sarà l'ennesimo problema per voi sarà l'ennesima figata per noi attualmente non ho una motivazione semplicemente a me piace voglio farlo e soprattutto avendo questo tipo di core fare un'edizione server significa aggiungere un file a un pacchetto di configurazione e aggiungere un comando in più nella nostra pipeline e ci sputerà fuori le ISO test automatici già ci sono roba di compilazione già c'è i repository già ci sono sostanzialmente sviluppare aggiungere un progetto così immenso il core di Parrot in realtà consiste nell'aggiungere quattro cose in qualche file allora li stiamo sperimentando siccome nasciamo da test fatti a mano purtroppo giochiamo di tanto in tanto a cambiare le tecnologie che usiamo abbiamo usato Jenkins per un po' di tempo abbiamo usato le tecnologie di open source i test automatizzati lanciano le macchine uno imprende operazioni da fare a mano come se ci fosse un utente con mouse e tastiera questo software ci dà il report di ciò che è andato bene e ciò che è andato male cioè ci sono un sacco di tecnologie sia per test numerici sia per test molto specifici per sistemi operativi distribuzioni tutto il resto è manuale perché effettivamente scatenare un team di gente davanti alla distro e far rievidenziare tutti i problemi dei pentest dell'azienda con la versione che sta per uscire sono i veri modi per testare su strada il prodotto la fase di test consiste sia nel vedere se gli aggiornamenti funzionano sia per vedere se alcune modifiche significative e del core sul campo effettivamente si rivelano efficaci o meno là è il test manuale che ci vuole ovviamente l'automatizzazione c'è e la vogliamo ok allora partiamo col presupposto che Anonsurf se lo si vede da fuori è una figata pazzesca si clicca un pulsante dal menu c'è Anonsurf vado su applications Anonsurf Anonsurf start l'intero sistema entra sotto rete Tor qualsiasi pacchetto anche DNS o passa sotto rete o non passa se il computer è configurato sotto IPv6 automaticamente l'IPv6 viene disabilitato e il traffico passa sotto Tor anche perché ci sono ad esempio alcuni script vecchi simili ad Anonsurf come ad esempio Tor qualcosa non mi ricordo qua dove ad esempio in computer con IPv6 bypassavano completamente le regole IP tables per IPv4 cosa c'è alle spalle qual è il segreto per questa magia è un cazzo di script bash che lancia un po' di regole di IP tables lancia Tor fa un po' di diagnostica rimpiazza qualcosa nel resolve conf e mette tutto il sistema sotto rete Tor sia Anonsurf non funziona perché o Tor non è riuscito ad aprire un circuito o perché c'è qualche altro problema in qualche componente che ne sono IP tables e così via quindi è un wrapper che automatizza le operazioni sicure testate per fare correttamente una cosa che o uno si impara la memoria perché un pazzo o semplicemente farà nel modo sbagliato però il risultato finale è che io con un click dal menu sono sotto rete Tor con tutto il sistema cosa? attualmente ovviamente cambierà nel futuro quindi chiunque stia vedendo il talk lì non si aspetti cose fantastiche abbiamo il menu diviso per categorie sono simili a quelle di Cali c'è qualcosa in più tipo automotive per le auto quindi i vari can utils kayak udsim quindi simulator cari in caribù e così via tool di diagnostica di ogni tipo per lavorare proprio con i protocolli che altro abbiamo di diverso dal solito reporting tools li conosciamo c'è il menu dei servizi dove ad esempio abbiamo fatto delle scelte non usiamo Apache 2 di default anche se è preinstallato ma usiamo Nginx estremamente più comodo da usare la gente non se ne rende conto finché effettivamente non comincia a riportare Apache 2 usiamo come fa Debian al posto di MySQL abbiamo MariaDB e le solite scelte all'interno del core è stata fatta una scelta è la stessa fatta da Kali anzi addirittura lo script che lo fa non mi ricordo se l'abbiamo proprio forcato da loro o comunque ci siamo ispirati da loro ogni servizio preinstallato che di default all'avvio si avvierebbe non si avvia di default se io ho Nginx e Apache 2 preinstallati all'avvio sono spenti se ho PostgreSQL Metasploit OpenVac preinstallati uno avvia la distro e non ha porte esposte questo perché è estremamente utile intanto perché se lavoro in una distro di pentest non voglio esporre i servizi della macchina dove faccio test non voglio nemmeno che possa essere fatto un fingerprint della mia distro e soprattutto perché una distro con tutta sta roba preinstallata pesa assai cioè a saturare 5-6 giga di RAM non ci vuole niente per cosa? per servizi che non usiamo significa anche un avvio più lento e così via è anche una delle grandi differenze tra chi la distro se la fa in casa e chi la distro invece la prende già usata se io su una Ubuntu installo Metasploit mi si avvia MSF a ogni avvio mi si avvia Postgres a ogni avvio a meno che non sono bravo e perdo lì la mia vita anziché studiare roba utile mi curo roba che altri hanno già curato meglio di me in maniera automatizzata perché io appena installo il pacchetto c'è già systemd modificato che abbiamo preso a calci per non far riavviare i servizi e funziona e se non funziona saremo noi a prendercene cura non è il tipo che si deve andare a ristudiare e cazzo hanno cambiato è un sistema abbastanza utile da questo punto di vista è l'unica giustificazione per progettoni di questo tipo sotto il cofano ah ovviamente abbracciamo anche alcune tecnologie di Canonical l'unica cosa che stanno salvando Canonical dal fallire banalmente che ne so Snap è un tool abbastanza che consente di accedere a un repository di tool universali non solamente multiplatform ma anche multidiscipline per cui io CentOS OpenSUSE qualsiasi base posso avere lo stesso LXD lo stesso Docker sulla stessa base posso installare i prodotti JetBrains tutti gli IDE ad esempio ci hanno anche regalato le licenze per cui i sviluppatori hanno accesso gratuito ma noi siamo per il software libero quindi voi questo non l'avete mai visto lo vedete di nuovo qui qua quindi no togliamo il menu per cui qualsiasi tool non sia presente sul repository di Parrot può essere installato attraverso Snap Docker ad esempio su Parrot lo usavo attraverso Snap finché Debian non l'ha integrato in Debian Testing altra cosa utile ad esempio è l'equivalente di Snap del mondo Red Hat non mi ricordo il nome Flatpak non è installato di default è installabile da repository di nuovo si ha accesso a tutti i tool di questo tipo quindi è uno sviluppatore con una distro del genere ah ma è di pentest lo sviluppatore che se ne fa si installa la home edition e ha accesso a tutto cioè con un comando ti installi lo soggetto nello stesso C-Lion o Pisharm che avresti su qualsiasi altra distro altri vantaggi che ci potrebbero essere full disk encryption l'installer si lo fa anche Debian nel suo installer Kali altra cosa copiata da loro fantastica ha una patch a Crypt Setup il componente che a livello di sistema permette di fare encryption dei device Kali ha implementato una patch che consiste nell'aggiungere delle funzioni aggiuntive agli slot delle password Crypt Setup cripta il disco dopodiché nel leader ha vari slot ogni slot posso mettere una password diversa per criptare a questa funzione viene aggiunto il fatto che una password possa decriptare il disco e un'altra password di un altro slot possa cancellare e brasare la zona degli leader del disco criptato cioè si va a prendere una cassaforte smantellare il blocco della serratura e richiuderla senza serratura non si può più aprire finché non viene ripristinato quel blocco quindi o mi faccio io delle chiavi o inserendo quella password il nostro disco è perso per sempre la solita situazione dove siamo con la pallotta e la puntata alla tempia del password ovviamente per chi non fa certi tipi di lavori non è la feature del secolo per chi ha davvero il cappello di sagnola in testa questa è una cosa carina da avere lo è in determinati contesti ossia il 99,99% dei casi c'è quell'1% dei casi dove o per spararmi la posa o semplicemente perché al momento mi serve poter cancellare gli leader del disco può essermi utile ad esempio se passo la frontiera e vogliono che io gli decripti il disco inserisco la password tosi e corrotto scusate copiatevelo analizzatevelo questa era la password fate voi nel mondo della forensics per questo è inutile se viene fatto un sequestro viene prima fatta una copia totale del disco bit per bit se si cancella la chiave andiamo per cui è utile per contesti live ovviamente nel mondo della security la paranoia è tanta quindi avere un tool una feature del genere è una cosa che non dispiace fin tanto che non aggiunge vulnerabilità al software purtroppo c'è gente che la vuole quindi non integrarla significa non soddisfare quel tipo di persone e purtroppo in un settore come quello in cui si muove Parrot sta gente è tanta grande o andiamo a bella cosa grazie a tutti grazie a tutti